Un pacchetto di BattleBug e un deck box Un applauso a quarto classificato su 80 bambini 80, bravissimo Terzo classificato Un batter bag, un cacciatore di numeri, un giocatore della luce e delle carte protettive Bravo, un applauso ragazzi Mi ricordo che ho classificato una bellissima medaglia Una sfracca di pacchette di figurine Uno, due, tre di giudizio della luce Un cacciatore di numeri e una guerra dei giganti Più deck box e le stile protettive Un applauso Bravo, bravo 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 Il primo che si vingato Il torneo di Dio The Legend Magliolier Mialloni E quello che è Bravo E dice un super deluxe edition Con 9 pacchetti di giudizio della luce Bustine protettive e 5 carte promo Più Utopia numero C39 Ragiotopia vittoria Più Butterfuck guerra dei giganti Che è una figura Obelissima Complimenti Bravo 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 Bravo